eccoci qua salve ragazzi qui del 38 come va mamma mia che stanchezza allora è da un pezzo che non faccio vlog lo so lo so ho avuto dei giorni di inferno si questo vlog è attuale oggi che giorno è oggi 5 si allora ho avuto una settimana di inferno anche qualche giorno più di una settimana allora un po di ospiti va bene però ci sono stati anche dei lavori della casa problemi di tubazione la storia di idraulici fantastico hanno dovuto scassare tutto quindi praticamente registrare o fare a cose diciamo per il canale non era possibile perché sentire ad esempio uguale cioè cose che non era per niente plausibile allora oltre a questo piccole novità io stavo mi sono messo a lavorare per un secondo altro tomo perché ho dovuto fare un tomo sul cinema la storia dal cinema dagli anni venti agli anni novanta ma a parte che è uscita una bella pagina una bella argomentazione lunga 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 ma ho dovuto fare il secondo tomo in questi giorni in questo periodo infatti ho dovuto farlo e anche questo non scherza con il numero di pagine che arriviamo comunque sui 140 pagine quindi non scherza neanche questo il secondo tomo a tema del 2000 i film gli anni 00 famosi anni 00 perché non ha capito poi anni 2000 non che ai film del 2000 riferito tutto il secolo del 2000 l'anno specifico fino fino a mo fino a mo quindi questi altri vent'anni che praticamente da questo fine dicembre ragazzi fino a dicembre il cinema compie ripeto 100 anni quindi mamma mia cento anni di cinema scriverli non è nato stata una passeggiata o comunque diciamo che la parte più difficile è stato il primo tomo che il secondo secondo bene o male è periodo periodo nostro della nostra generazione lo so che sono del 92 però io ho visto il cinema evolversi dagli anni 90 fino a mo quindi diciamo che ci sono stato più dentro rispetto agli anni precedenti detto questo detto questo fall guys mancano 3 ragazzi 3 giorni che finisce a season 1 finalmente 3 giorni questo è il terzo quindi vuol dire che oggi è il terzo giorno cioè il senso il terzo ultimo giorno della season domani mancheranno due giorni dove domani un giorno e non credo però che la season 2 parte subito credo che bene o male la settimana prossima uscirà quindi in senso che si aspetterà qualche giorno per la nuova season sicuro 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 detto questo entro perché stavo facendo un bordello esagerato e vi faccio vedere una cosa che avevo stavo lavorando quindi andiamo 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 così vi faccio felici vi faccio vedere perché mi spesso a lavorare anche in casa e ta 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 finalmente l'angolo bar sta crescendo le birre 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 no scherzo a parte vabbè al di là che quello verrà tolto qua ma anche devo comprare poi un mobiletto un mobile quelli là dove stanno le casse dei bar no uno così e poi sistemerò poi ovviamente la collezione delle birre potrà drasticamente aumentare potrebbe ciao bene tornano a noi ma ci sediamo qui stavolta ci mettiamo qui ben di comodi comodi o eccoci qua posto? perfetto ecco qua mamma mia mi lascia un ruolo ecco allora tornano a noi che volevo dire oltre a questo non ho fatto nessun video particolare neanche quindi però per mia fortuna avevo programmato tutto fino al 6 ottobre quindi credo che oggi mi dedicherò a caricare nuovi video perché tanto ho visto news piccoli news novità cose varie quindi posso chiaramente riparlare un po' di cose quindi pure i video devono essere comunque caricati con degli argomentazioni se no raga onestamente può diventare noioso e poi ripetitivo infatti per mia fortuna mi ero programmato tutto quindi meno male quindi dal 6 in poi finiscono diciamo la carrellata di video programmati da settimane da qualche po' di settimane e adesso adesso raga da oggi o domani inizierò a ricaricare qualche altro bel video per i prossimi giorni più forse qualche novità interessante che poi farò giustamente parlerò durante i video e cose varie questo è un vlog che so per spiegare un po' maronna la situazione non più del canale più che altro generico quindi perché forse inizierò anche a lavorare come vi ho detto in questo ambito cinematografico e non so che quanto se tutto va bene ovvio parliamo se tutto va bene quindi sarò meno presente e quindi sfrutterò poi in pochi giorni a disposizione per fare un sacco di video aggiornarmi e cercare anche in sera parlie di ricaricare e portarli nei giorni ovvero sapere sempre quei due video al giorno o uno se succede e cose varie ma ad esempio questo è uno special vlog ovviamente come sempre è un vlog special perché giustamente è uscito che non doveva uscire e quindi quindi un video appunto extra non mi ricordo neanche che video che usciva oggi comunque mi sa che oggi è scelto un video di Foguice nel video di programmazione non ricordo c'è uscito e madonna la memoria adesso non ho forse c'è un modo per farvelo vedere cioè più che altro mi informo io personalmente a parte che sto aggiustando camera mia quindi è tutto normale che è tutto normale ah ho messo lì la collezione dei caschi ovvio ovvio bene bene a parte si 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 tutto qua tutto qua tutto bello qua dietro qua non ci fate caso a parte che sto ancora lavorando si perché mi manca poco per questa cosa è la tesina giusto per mi metto così guardate eccomi vi dico subito che c'è sta in questi programmi in questo ultimo video giusto per guarda questo bello video special è dedicato pure agli ultimi video che dovranno uscire vado ve lo dico proprio così siate tutti felici contenti ah ecco ecco sì allora ah eh sì manco poi sono finiti praticamente i video allora sì ehm oggi è il 5 ah cazzarola sì abbiamo tutto due video sui Digimon Digimon Story Cyberg eh sì è vero è vero e il 6 abbiamo solo Fairy Tales la live di Fairy Tales perché abbiamo fatto il capitolo finale sì 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 mh mh già vero eh te lo vorrei fare qualche video mh mh decisamente bene io qua vi saluto qui dal 38 al prossimo video passo e chiudo bella raga